Il governo locale sarebbe disponibile ad accogliere l'apertura della Russia per una trattativa che si possa tenere proprio a Gerusalemme con Zelensky. Oggi Zelensky stesso aveva parlato con il premier israeliano Bennett, il quale però sempre secondo queste fonti diplomatiche sarebbe molto cauto per paura di un effetto controproducente di un'eventuale trattativa nel suo paese. In ogni caso, mentre sul terreno si continua a combattere, dagli Stati Uniti arrivano ancora sostegni, sostegni ovviamente in denaro. Biden oggi ha twittato che non c'è posto per gli imperatori e non consentiremo agli autocrati di dettare la linea del mondo. La Russia ha aperto alla possibilità di tenere i negoziati con l'Ucraina a Gerusalemme a riportarlo il Jerusalem Post, lo stesso giornale israeliano che aveva dato la notizia della proposta in tal senso da parte del presidente ucraino Zelensky, proposta confermata dallo stesso Zelensky in una conferenza stampa nel corso della quale si è detto favorevole alla mediazione del premier israeliano Bennett, con il quale ha poi riparlato in tarda serata, con riferimento ad un eventuale incontro tra i leader. E a corroborare la sensazione che qualcosa si stia muovendo, ci sono altre parole del presidente ucraino relative al cambio di atteggiamento da parte di Mosca, che prima non faceva altro che porre ultimatum, in negoziati che continuano stando alle dichiarazioni del portavoce del cremlino Peskov in videoconferenza. Difficilmente, tuttavia, serie trattative potranno cominciare senza un cessate il fuoco, al quale è complicato pensare che Mosca aderirà prima di aver preso almeno qualcuno dei suoi obiettivi. E che lo scenario sia questo lo fa capire anche quanto riportato da fonti dell'Eliseo al termine del colloquio telefonico che il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz hanno avuto con Vladimir Putin. Non ha dato alcun segnale della volontà di sospendere la guerra, hanno fatto sapere da Parigi. I due leader europei hanno chiesto una tregua immediata e la fine dell'assedio a Mariupol, richieste evidentemente respinte da Putin. E a sottolineare tutte le difficoltà a dispetto dei flebili segnali di dialogo, sono arrivate anche le parole del ministro degli esteri ucraino, Kuleba. Molto scettico circa la possibilità di negoziare un accordo con la Russia, le richieste di Mosca, ha affermato, sono inaccettabili. Il tutto mentre gli Stati Uniti autorizzano altri 200 milioni di dollari di aiuti a Kiev, che serviranno anche per acquistare apparecchiature militari. E Mosca avverte che i convogli con le armi inviate all'Ucraina potrebbero rappresentare un legittimo bersaglio delle forze armate russe. I carri armati russi sono sempre più vicini alla periferia di Kiev. Oggi hanno distrutto una base militare a 30 chilometri dal centro della capitale dell'Ucraina. possono prendere Kiev solo radendola al suolo, ha detto Zelensky, mostrandosi dal suo solito posto nel cuore della città. Però si combatte anche altrove. Mariupol, la strategica città sud, collegamento tra la Crimea e il Donbass, è completamente circondata sotto attacco. Oggi si è sfiorata anche una strage in una moschea, dove si erano riparati e nascosti donne e bambini, e anche cittadini turchi in attesa di evacuazione. Khershaw, un altro luogo importante a nord della Crimea, i russi hanno deciso di indire un referendum sulla falsariga di Quello, con cui nel 2014 certificarono l'annessione forzata della penisola. A Melitopol, la popolazione è scesa in piazza per chiedere alla liberazione il sindaco rapito dai russi, che sarebbe sottoposto a tortura con l'accusa di terrorismo al suo posto. è stata già insediata una ex membro del Consiglio Comunale Galina, Danilcenco. Alla TV la donna ha detto di essere già pronta a fare di tutto per riportare la città alla normalità. Le evacuazioni dei civili intanto proseguono a singhiozzo e sotto il fuoco sette persone sono state uccise. Tra loro c'era un bambino. Secondo l'ONU, le vittime tra i civili sarebbero 579, i 42, appunto, i bambini per le intercettazioni dell'intelligence ucraina. I soldati russi a Kharkiv avrebbero ricevuto l'ordine di sparare sui civili. Manifestazioni a sostegno dell'Ucraina si sono tenute oggi in diverse città. Principale in Italia è quella che si è svolta a Firenze, dove è arrivato anche il messaggio di Zelensky. Vediamo. Piazze piene in tante città italiane ed europee per dire no alla guerra e per chiedere la pace. La più importante nel nostro paese è Firenze, 20.000 partecipanti, dove 17 rintocchi delle campane della Basilica di Santa Croce ricordano i giorni di conflitto in Ucraina. A promuovere la manifestazione il sindaco Nardella, leader di Eurocity, la rete di primi cittadini che comprende oltre 200 città e che spesso rappresenta da oltre due settimane la prima accoglienza per chi fugge dal territorio di guerra. Il messaggio che sale dalla piazza di Firenze è univoco questa volta. Nessuna equidistanza, la solidarietà va al popolo ucraino contro l'invasione di Putin. Anche il videomessaggio del presidente ucraino, il momento clou dell'evento, Zelensky torna a condannare una guerra non iniziata da loro e rilancia la richiesta più importante, chiudere il cielo sopra l'Ucraina. Da sagrato parlano i primi cittadini italiani. Tutti chiedono diplomazia per arrivare ad una pace. In piazza c'è tutto il centrosinistra, Partito Democratico, Italia Viva, Leo e Azione. C'è anche Nicola Fratoianni che si fa portavoce della sinistra e che rifiuta l'uso delle armi e che ha votato contro la decisione del governo di aiuti militari all'Ucraina. Il segretario Dem ripropone il nome di Romano Prodi come mediatore tra Ucraina e Russi, mentre Renzi indica Angela Merkel. Forza Italia e Cambiamo aderiscono, ma senza la presenza di rispettivi leader. Il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte e Roberto Fico invece scelgono Napoli per manifestare contro il conflitto. E adesso ci spostiamo in un'altra zona calda in Medio Oriente. Cinque o sei missile a lungo raggio sarebbero stati lanciati dall'Iran verso Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno. Ci sono dei video che circolano, che mostrano queste esplosioni che si sono abbattute in una zona che sta tra il consolato americano e l'aeroporto. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo, al momento non sono state segnalate vittime, però ci sono danni tra questi, ci sono danni anche alla sede della televisione del Kurdistan, che si chiama appunto Kurdistan 24. Queste sono le ultime notizie appunto arrivate dall'Iraq. Adesso andiamo a parlare di sport e vediamo le due big del campionato di calcio oggi, come se ne sono cavata. Grazie al successo di misura sull'Empoli sale a cinque lunghezze il vantaggio del Milan capolista sull'Inter, che ha due match da giocare. Un difensore, il francese Calulo, alla sua seconda rete in Serie A imprima il diciannovesimo la svolta all'incontro, raccogliendo di sinistro la rispinta della barriera sulla punizione di Giroud. E a due minuti dal fischio di fine primo tempo il campione del mondo ex Chelsea stacca di testa sulla punizione di Calabria, costringendo Vicario ad una difficile deviazione. Nel secondo tempo poi tocca al suo omologo Magnano strappare l'applauso con due interventi decisivi su Luperto e Bairani. Dietro al Milan non molla la presa la Juventus, ora a meno sette dai rossoneri, grazie al suo quindicesimo risultato utile consecutivo, il 3-1 in casa della Sampdoria. Gara subito in discesa per i bianconeri, al ventitresimo autorete di Yoshida, che interviene maldestramente sul cross di Quadrado indirizzato verso Ken. Ed è ancora l'ex attaccante dell'Everton a mettere ansia alla difesa d'Oriana. Per fermarlo Colli commette un fallo da rigore trasformato da Morata. Nella ripresa penalti per Candreva, neutralizzato da Scesdi, ma è invece il calcio di punizione di Sabiri ad illudere la Doria. Sigilo definitivo viene posto da Morata, che di testa sfrutta al meglio il traversone sul secondo palo di Locatelli. Nelle sfide del pomeriggio il vero colpaccio lo mette a segno lo Spezia. 2-0 sul Cagliari in uno scontro diretto per la salvezza, grazie alle segnature di Erlich e Manai. Liguri che salgono quindi a 29 punti, a più 4 sui rosso-blu di Mazzarri. La Salernitana parte bene con il vantaggio di Bonazzoli, ma finisce per farsi rimontare dal Sassuolo, in gol con Scamacca e Traorri nel giro di soli 10 minuti. L'episodio chiave è l'espulsione di Raspadori, che agevola il ritorno della Salernitana. Di Juric, di testa alla rete, che fissa il risultato sul 2-2. Formula 1 ha una settimana dal primo weekend in pista, sono terminate oggi le sessioni di prove, e subito si è fatto notare il campione del mondo per Stappen. L'olandese della Red Bull ha percorso 53 giri con il miglior tempo, 1'31'720. Alle sue spalle il figlio d'arte, Mick Schumacher, e la Ferrari di Charles Leclerc, con due pneumatici più duri e un distacco attorno al mezzo secondo. Chiude bene poi la tre giorni di test, l'Alpine di Fernando Alonso, che ha coperto 155 giri, si è piazzato davanti alla Mercedes di George Rasse, il suo compagno di squadra. Hamilton, piuttosto critico nei confronti della sua nuova monoposto, non è andato invece oltre la diciassettesima posizione. 1'37', ci fermiamo qui domattina alle 7, torna l'informazione. Arrivederci, grazie, buonanotte.